Musica Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura La cronaca ancora truffe via telefono dopo gli episodi segnalati a Castiglion Fiorentino a lanciare l'allarme Questa volta è la ASL Toscana Sud-Est, vediamo Ancora un raggiro tramite SMS, nel mirino dei truffatori adesso gli utenti dell'ASL Toscana Sud-Est che in questi giorni stanno ricevendo strani messaggi False comunicazioni, spiega l'azienda sanitaria che invita a fare attenzione Nel messaggio viene richiesto di aggiornare la propria posizione socio-sanitaria e si invita a richiamare un numero per comunicazioni importanti, spiega l'azienda che precisa che non si tratta in alcun modo di SMS inviati dall'ASL, anzi sollecita la massima attenzione nel divulgare dati personali sensibili o a chiamare numeri che non siano di sicura provenienza aziendale L'ASL ricorda poi che le aziende che afferiscono al servizio sanitario regionale non utilizzano mai numeri a tarifazione maggiorata ma esclusivamente numeri verdi gratuiti L'invito infine è a segnalare alle forze dell'ordine eventuali abusi Nei giorni scorsi anche un altro ente aveva lanciato un appello all'attenzione si tratta del comune di Castiglion Fiorentino dove sedi centi incaricati dell'ufficio Tributi del Comune avevano contattato i cittadini millantando di dover procedere con l'emissione di alcuni rimborsi Ancora cronaca, gli ispettori del lavoro dell'ispettorato territoriale di Arezzo Sono intervenuti in un cantiere edile in provincia congiuntamente al servizio di vigilanza dell'ASL Valdichiana dove sono stati trovati, intenti a svolgere lavori edili tre operai extracomunitari sprovvisti di contratto di lavoro Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per la loro identificazione Il personale ispettivo ha adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale con efficacia immediata Sul posto è stato rinvenuto anche un dormitorio dove i tre operai alloggiavano in condizioni precarie Sono state riscontrate anche violazioni in materia di salute e sicurezza tra cui la mancata formazione di informazioni dei lavoratori e l'omessa sorveglianza sanitaria per il personale irregolarmente occupato oltre 20.000 euro le sanzioni amministrative contestate oltre appunto alla contestazione del reato per occupazione di lavoratori presenti in modo irregolare sul territorio italiano E dopo l'ordinanza di Ghinelli inizia l'intervento di ripulitura del perimetro esterno dell'area ex lebole Dopo la chiusura dei cancelli con lucchetti e catene per evitare l'ingresso di estranei adesso parte la pulitura dell'area ex lebole come disposto dall'ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli Al lavoro una ditta incaricata per eliminare la vegetazione infestante cresciuta in modo spontaneo dopo la chiusura dello stabilimento in tutto circa 1,2 km il perimetro da ripulire L'ordinanza del comune era arrivata alcuni giorni fa scattata a seguito dei sopralluoghi chiesti dal sindaco ASL Ufficio edilizia del comune di Arezzo e Polizia Municipale Dopo un precedente sollecito adesso l'amministrazione esige dalla proprietà l'imprenditore Marco Carrara condizioni di decoro e sicurezza a seguito dei ripetuti episodi di cronaca e degrado Dopo la chiusura dei varchi aperti sulla recensione esterna più volte testimoniata dalle nostre telecamere dei cancelli e la ripuritura degli esterni la terza fase sarà quella del risanamento delle strutture l'area dovrà essere riportata ad una condizione di decoro, igiene e sicurezza entro i prossimi 60 giorni Parliamo di politica di sanità Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD in Regione Toscana e membro della Commissione Sanità interviene sulla recente delibera della ASL Toscana Sud-Est che ha approvato il piano attuativo di riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza reclutando 95 nuovi infermieri in tutte le ASL toscane di cui 34 in provincia di Arezzo 7 solo in Casentino Credo che questo ennesimo intervento a sostegno del sistema sanitario territoriale e in particolare del Casentino tolga ogni dubbio sulla volontà della Regione Toscana di difendere e rafforzare la sanità pubblica detto Vincenzo Ceccarelli Questi 7 professionisti consentiranno di dare alle postazioni di emergenza territoriale una migliore operatività ed efficienza Questa è la strada per garantire la migliore assistenza a tutti i cittadini ha concluso appunto Ceccarelli E ci sarà un nuovo incontro tra i sindaci del Valdarno Aretino e Fiorentino con la Regione Toscana Trenitalia e RFI proprio sulla criticità della linea ferroviaria Firenze-Arezzo è stato fissato per il prossimo 9 ottobre il nuovo incontro della cabina di regia della Regione Toscana con i gestori del trasporto ferroviario Tranitalia e RFI sulle criticità della linea Firenze-Arezzo al quale parteciperanno anche i sindaci del Valdarno Aretino e Fiorentino che da luglio chiedono la convocazione del tavolo purtroppo dobbiamo constatare che le criticità continuano a persistere per tutti quei pendolari che si rivolgono al servizio quotidianamente per raggiungere scuola o posto di lavoro ha dichiarato la presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno Aretino Valentina Vadi e con l'inizio del nuovo anno scolastico prosegue la situazione rischia di diventare insostenibile soppressioni di treni, continui ritardi e mancanza di comunicazione rendono faticosa la vita dei pendolari del Valdarno è tempo di ripensare a sanare le problematiche di lungo periodo e proseguire con l'azione di monitoraggio interrotta nel periodo estivo ha aggiunto poi il sindaco Valerio Pianigiani in rappresentanza dei comuni del Valdarno Fiorentino in particolare ci preme tornare sull'annosa questione dei ritardi che anche in questi giorni sono stati pressanti inoltre è indispensabile riconfrontarsi su alcune ipotesi risolutive che erano state prospettate in sede dell'ultimo incontro l'occasione deve quindi servire a trovare soluzioni realistiche ma soprattutto a verificare lo stato di avanzamento per il progetto del nuovo binario intervento irrisolutivo ma a lungo termine e l'acquisto dei nuovi treni pop che potrebbero migliorare nel breve periodo alcune situazioni proprio per questo abbiamo chiesto alla regione toscana di coinvolgere anche il comitato pendolari essendo i fruitori diretti di quel servizio che è urgente necessità di intervento questa mattina è stato inaugurato il nuovo giardino della scuola primaria Leonardo Bruni e della scuola dell'infanzia Bastione in via Pierluigi da Palestrina ad Arezzo la riqualificazione dell'area verde con nuovi giochi con la creazione di aule all'aperto dotate di strutture in legno e tela e con un orto didattico è stata realizzata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e AISA Impianti uno spazio rinnovato che offre ai bambini e alle bambine l'opportunità di apprendere in un contesto naturale sviluppando un profondo legame con l'ambiente e acquisendo comportamenti sostenibili il progetto Arezzo Cuore è stato premiato in Senato per i 10 anni di attività svolta nelle scuole vediamo sono stati piacevolmente sorpresi poi nell'essere riconosciuti come messaggeri del cuore al Senato della Repubblica Arezzo Cuore è premiato in Senato per i 10 anni di attività nella diffusione delle manovre di rianimazione ed uso del defibrillatore nelle scuole è stato un riconoscimento inaspettato che ci ha voluto fare il presidente Segre presidente di questa associazione Onlus che diciamo da tantissimi anni diffonde la cultura della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo dei defibrillatori in tutta Italia e noi siamo stati diciamo invitati come progetto Arezzo Cuore per la presentazione appunto del nostro progetto dei 10 anni che hanno contraddistinto l'Arezzo Cuore Scuola quindi la diciamo l'istituzione degli insegnanti istruttori che formano i ragazzi delle scuole per diventare degli esecutori veri e propri quindi avere il brevetto da esecutore BLSD e utilizzare quindi il defibrillatore grazie al progetto Arezzo Cuore in questi 10 anni sono stati formati 18.343 studenti attualmente sono poi 310 i docenti in grado di insegnare le manovre di rianimazione e l'utilizzo del DEA agli studenti numeri importanti che hanno consentito il salvataggio di decine di persone solamente qualche giorno fa proprio ad Arezzo è stato salvato un 17enne che aveva accusato un malore durante una partita di basket e di allenamento al Palasport alle caselle la catena di soccorsi in quel caso è stata tempestiva ed è stata stupenda mi permetto proprio di usare questo termine perché ha funzionato tutto alla perfezione tant'è che tra l'altro io ero coinvolto personalmente perché ero di servizio quella notte e ero con l'automedica quindi sono intervenuto personalmente su questo ragazzo e noi quando siamo arrivati con l'automedica il ragazzo era già sveglio questo grazie alle manovre di rianimazione fatte dal personale della palestra sul posto e soprattutto all'utilizzo del defibrillatore che avevano lì a pochi metri che ha permesso a questo ragazzo di essere vivo oggi è cambiata tantissimo la mentalità noi eravamo ancora lì sul posto stavamo lavorando con il ragazzo e già le persone della palestra quindi i responsabili della palestra mi chiedevano come potevano fare per riavere il defibrillatore perché altrimenti avrebbero addirittura sospeso tutti gli allenamenti se il defibrillatore non fosse stato diciamo ripristinato in tempi brevi quindi pensate a quanto nel tempo queste cose questa mentalità sia stata cambiata e sia stata fortunatamente cambiata positivamente torniamo a parlare di sanità un mese dedicato alla prevenzione cardiologica nelle farmacie comunali servizio un intero mese dedicato alla prevenzione cardiologica l'iniziativa è promossa dalle farmacie comunali di Arezzo che da sabato 21 settembre a lunedì 21 ottobre condurranno una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini sulle corrette pratiche per mantenere il benessere del cuore e ridurre i fattori di rischio il mese del benessere cardiologico abbraccia idealmente i temi della giornata mondiale del cuore del prossimo 29 settembre e va a collocarsi in un momento dell'anno particolarmente delicato a causa della dipartenza delle diverse attività sportive lavorative e scolastiche la volontà è dunque di generare consapevolezza sulle piccole accortezze quotidiane necessarie per restare in salute per preparare il corpo all'arrivo della nuova stagione e per scongiurare i rischi collegati all'emergere di eventuali patologie cardiache il personale delle otto farmacie comunali di città e frazioni sarà così a disposizione dei cittadini per eventuali consulenze gratuite e personalizzate per la cura di sé il corretto stile di vita deve essere però sostenuto anche da un programma di prevenzione secondaria tra test e screening da svolgere periodicamente per tenere sotto controllo il corpo e per anticipare eventuali problematiche andiamo andiamo in casentino realizza profumi artistici distillati di emozioni sogni e ricordi pratese di nascita ma casentinese di adozione è Alice Rita Giugni uno dei talenti più emergenti della Toscana collabora con pittori scultori musicisti e la sua ultima creazione è anche approdata all'81esima mostra del cinema di Venezia sono state invitate a Venezia dal stilista pratese dell'alta moda Eleonora Lastrucci per portare un mio profumo artistico e un po' di Toscana sul red carpet in accompagnamento a un suo prezioso abito indossato dalla modella Giorgia Zaros Miss Red Carpet racconta Alice il mio profumo che hai sfilato sul red carpet durante la prima del film Ainda si chiama appunto Venezia ed è un omaggio alla città che ha ospitato la mostra del cinema e adesso andiamo in Val di Chiana perché prosegue con successo a Fogliano le vite Giorgio Vasari mostra collettiva di ceramica pittura pittura su vetro scultura e scultura con materiali di riciclo per celebrare 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari l'evento inaugurato lo scorso 14 settembre nell'ambito dell'apertura della settimana foianese Saperi e Sapori è organizzato dall'associazione culturale Art Eco con il patrocinio e la collaborazione del comune di Fogliano della Chiana e della Proloco di Fogliano l'iniziativa coinvolge quasi 100 artisti da tutta Italia ed è dislocata in tre diverse sedie espositive la Galleria Comunale Furio del Furia la Sala Carbonaia e il Museo della Fraternita di Santa Maria in Via Ricasoli e adesso passiamo alla pagina sportiva domani quinta giornata di campionato di serie C per l'Arezzo Calcio in programma alle 20.45 allo stadio Ettore Mannucci la sfida con il Ponte d'Era facciamo il punto con l'allenatore pre-partita abbiamo preparato la partita come sempre e ho visto i ragazzi come sempre molto disponibili e con grande impegno in quelle che sono state le richieste i ritmi e appunto la preparazione alla gara che finirà oggi perché comunque abbiamo un altro allenamento in termini di valutazione e quant'altro mi aspetto una partita in quel di Ponte d'Era come sempre una partita difficile in termini di avversario in termini di campo di una superficie veloce comunque di un avversario abbastanza chiaro in quella che è l'interpretazione e l'espressione del gioco e quindi l'abbiamo preparata in quella direzione consapevoli che dobbiamo alzare il rendimento e consapevoli che dobbiamo cercare in tutti i modi di cominciare una striscia positiva per per fare discorsi diversi perché comunque è la prima di una settimana secondo me molto importante con impegni ravvicinati e quindi c'è bisogno ecco già da domani di cominciare con il piede giusto per quanto riguarda Montini e Chiosa Montini sicuramente farà parte della convocazione sarà disponibile domani in quello che è un minutaggio al cospetto di 10 giorni 12 giorni che ha mancato però ha disputato tutta la settimana a regime e quindi ci sarà solo una questione di condizione di quello che il ragazzo riuscirà a dare in quella che può essere una scelta iniziale piuttosto che a partita è in corso per quanto riguarda Marco invece ha disputato ancora una settimana fuori dal gruppo e quindi lo valuteremo la settimana prossima in quello che può essere un rientro o di martedì oppure di domenica contro la Ternana però ecco è sulla strada del recupero totale gli manca l'ultimo l'ultimo step cioè integrazione con la squadra qualche allenamento a regime per poi valutare la sua il suo impiego in quella che è una partita è una settimana particolare in questi termini perché io valuto che tra sabato e martedì c'è un discorso tra sabato tra martedì e domenica ce n'è un altro perché parliamo di appena due giorni tra sabato e martedì quindi è chiaro che va monitorato questo aspetto ma allo stesso tempo domani scenderanno in campo gli undici che ritengo siano migliori per la partita di domani poi ci sarà la conseguenza di quello che sarà l'andamento della gara il rendimento della gara e solo alla fine della partita di domani poi si penserà a quella di martedì in virtù di quello che sarà successo però è chiaro che sono due partite molto ravvicinate e quindi ben diverse rispetto alla norma perché ripeto solo domenica e lunedì se consideriamo che sono 48 ore dove fisiologicamente un giocatore che disputa 90-95 minuti ha bisogno per recuperare significa che appena recuperato dovrebbe riscendere in campo ed è iniziata questa settimana la scuola calcio firmata ACF Rezzo le bambine si sono ritrovate sul campo sportivo di Ceciliano pronte ad iniziare la loro avventura sui campi da calcio dopo un saluto di benvenuto le piccole calciatrici hanno iniziato ad approcciarsi al gioco prima passandosi la palla e poi iniziando dei semplici esercizi di corsa alcune di loro si avvicinano per la prima volta al calcio ma tutti hanno dimostrato grande voglia di mettersi in gioco e provare insieme all'allenatore per portare avanti il progetto della scuola calcio ci sono le Maria Giulia Tuteri e Carlotta Nardi che nel corso della prima giornata di scuola calcio hanno affiancato le bambine e le hanno aiutato a muovere i primi passi in allenamento e domenica come noto si terrà al parco Pertini di Arezzo la manifestazione Vivere lo Sport Arezzo Abilia l'evento organizzato da Coni Chip Wisp di Arezzo vedrà anche la partecipazione della Polizia di Stato con un proprio stand per l'occasione sarà presente quale testimonial anche l'assistente Federico Vannelli 33 anni già atleta dei gruppi sportivi della Polizia di Stato per la specialità Nuoto in Acque Libere e attualmente tecnico presso il Centro Nazionale Fiamme Oro medaglia d'oro e d'argento agli europei di nuoto del 2016 e medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest del 2017 che lo scorso luglio libero dal servizio treva in salgo dalle acque del fiume a da un bambino di 12 anni che stava annegando a causa della fortissima corrente alle ore 11 nel corso dell'inaugurazione dell'evento Federico Vannelli riceverà un riconoscimento da parte del CONI e WISP e Accademia Calcio Arezzo sono i nuovi gestori del campo da calcio comunale di Viarno consegna delle chiavi del campo di Viarno alla presenza dell'assessore allo sport Federico Scapecchi di Gino Ciofini dirigente WISP dell'Arezzo Fabrizio Bertusi rappresentanza dell'Arezzo Calcio Ennesimo Bando ha sottolineato Federico Scapecchi ed Ennesimo Esito che mi rende molto soddisfatto due realtà apparentemente distanti ma in realtà molto vicine con la stessa passione per il calcio che coesisteranno in questo ambiente già pronto ad accoglierle in una prospettiva di crescita infrastrutturale che permetterà entrambe di viverla a pieno Federico Scapecchi fa un grande in bocca al lupo alla WISP e all'Accademia Calcio Arezzo il percorso della società sportiva Arezzo si allarga dunque al campo di Via Arno grazie proprio alla concessione decennale condivisa con la WISP il campo sarà utilizzato dall'Accademia Calcio Arezzo dove i piccoli Amaranto potranno allenarsi nelle ore diurne mentre la sera sarà appannaggio della WISP e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata arrivederci Grazie a tutti